50 km dell'anello del Monte Bulgaria per suggellare il primo anniversario del gemellaggio tra i comuni di Celle di Bulgaria e i Vieliki Prejlav. L'invito è dell'associazione sportiva dilettantistica Bike Team solo per passione. È il Bulgaria Tour, 50 km in bici alla scoperta dei paesaggi cilentani. L'occasione giusta per godersi i panorami tra mare e monti, pedalando immersi nella natura del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Dalburni, spiegano dall'organizzazione. Pedalando lungo il percorso e toccando i territori di Celle di Bulgaria, Rocca Gloriosa, Quavena, Bosco, San Giovanni Appiro, Lentiscosa, Marina di Camerota, San Severino di Centola e Poderia, si procederà anche alla posizione della segnaletica dell'anello del Monte Bulgaria, realizzata grazie a Gianluca Rizzo. segnaletica che segue il tracciato presente nel Bike Tour dei Villages of Tradition del Gal Casacastra, un percorso che in questo modo diverrà permanente e percorribile in qualsiasi momento dell'anno. L'appuntamento è per il 7 giugno nella piazzetta al seco di Celle di Bulgaria a partire dalle 9.30. Durante la giornata si potrà partecipare anche a numerose altre iniziative culturali promosse per l'occasione dal comune di Celle di Bulgaria.